ben ritrovati di nuovo su review iu vado a farvi vedere insieme a voi queste cartucce della oscursana acquistate su amazon al prezzo di 7 euro circa sono andato praticamente a comprarle per la pistola salve da 8 mm come vedete arrivano all'interno di questa confezione alcune sono già andato ad usarle il corpo veramente potente simile veramente alle pistole quelle vere con le cartucce vere e come vedete l'involucro è dorato la parte davanti e verde devo dire che in generale fanno un bel effetto vi lascio il link in descrizione di amazon dove lo acquistate e ve le consiglio